Oggi vi parlerò dei copy constructors, cioè dei costruttori copia, e non sarà una lezione facilissima da seguire, ve lo anticipo, anzi probabilmente lo spezzerò anche in più parti. Ma non preoccupatevi eccessivamente, non doveste cogliere fin da subito tutte le implicazioni e avere qualche lacuna o qualcosa di non capito, eventualmente ci ritornerete. Tutto sommato l'obiettivo è quello di riuscire a utilizzare classi già ben progettate e costruite da altri per potenziare i nostri programmi. Poi con l'esperienza arriverete anche voi al momento in cui dovrete veramente dire ok, qua adesso mi tocca veramente implementare un copy constructor come si deve, ma a quel punto avrete anche le spalle un po' più larghe. Ci sono delle situazioni, anche non collegate alla OOP, alle classi e agli oggetti, in cui il compilatore deve in automatico creare delle coppie di elementi. Ora, se questi elementi sono variabili standard come interi, float e quindi semplici, il tutto non crea nessun tipo di problema. Quando abbiamo a che fare con degli oggetti, con delle classi che hanno una struttura nettamente più complessa, potenzialmente, un minimo di attenzione in più ci vuole. Sostanzialmente i costruttori copia vengono chiamati in causa quando c'è da passare un oggetto by value per valore come parametro a una funzione, o quando un oggetto viene restituito come risultato da una funzione. Apro una parentesi perché voglio essere sicuro che sia bello chiaro quello che sto dicendo. Programmino, stupidissimo, dove ho definito una funzione somma che restituisce un numero intero e che riceve due interi come parametro. I parametri che ovviamente sono i due numeri che vanno sommati. Nel main dichiaro poi due variabili intere e qua memorizzo la loro somma nella variabile risultato, sempre intera, assegnandole il risultato dell'invocazione alla funzione somma. Il compilatore quando si trova ad invocare, quindi a rendere attivo il codice della funzione somma, e indico il parametro in questo modo, sapete che si attiva il cosiddetto passaggio dei parametri by value per copia. Copia, copia costruttore, copia. In automatico sa che deve creare nell'ambito della funzione somma una variabile che è locale, automaticamente il parametro, che deve diventare una copia del valore che ha la x al momento in cui la indico come parametro attuale. Quindi in A viene costruito una copia dell'oggetto x esterno alla funzione e viene fatta in automatico. Ora, poiché si sa a priori che un intero occupa 4 byte, il compilatore non ha problemi. Prendi 4 byte in questo momento occupati dalla variabile x e li copia 1 a 1 nello spazio della RAM che poi fa corrispondere alla variabile parametro formale A. Le complicazioni nascono quando al posto di una variabile così semplice come la x intera io vado a sostituire un oggetto complesso. E su questo poi torneremo tra pochi minuti. E sapete perché? Perché potrebbe non essere scontato cosa vuol dire copiare l'oggetto da un'altra parte. Simplemente per memorizzare qua la variabile intera deve creare al volo, dove c'è questo return, una variabile intera appunto che corrisponde al valore dell'espressione che qua chiedo di calcolare. Ed è quella che poi viene copiata automaticamente in risultato. Di nuovo variabile copia automatica. E di nuovo è molto facile perché sappiamo gli interi esattamente come sono fatti, sono immutabili per il compilatore. Ma se invece di un intero venisse restituito qua un oggetto complesso, ci troveremmo con le stesse complicazioni del caso visto pochi minuti fa, parlando del parametro. Come al solito ho preparato una situazione che evidenzia quelli che possono essere i possibili problemi e che ci faranno capire il perché di certe necessità. Ho immaginato che il dado abbia bisogno durante la sua esistenza di stipare, di immagazzinare un certo numero di informazioni, degli interi. Non sappiamo però quanti, per cui la scelta più corretta dal punto di vista progettuale è quella di prevedere la presenza di un puntatore a un intero e di andare a creare dinamicamente con il comando new, nel caso andatevi a rivedere la parte sul C++ che riguarda la gestione dinamica della RAM, il blocco dei byte corrispondenti a questi numeri interi. L'allocazione di questo spazio di memoria l'ho affidata al costruttore, risposto quindi nel sorgente cpp. Eccoci qui. Ho fatto finta che 10 sia il valore che interessa per questo dado. Ora, non importa com'è che viene terminato questo 10, potrebbe essere un 20, un 40, un valore casuale. L'importante è che qua si sta allocando una quantità di dati in modo dinamico. In pratica sto definendo quello che è un vettore di 10 interi ma creato dinamicamente. E quello che viene memorizzato in dati è l'indirizzo del primo di questi 10 byte. Poi, sempre per scelta casuale, ho deciso di memorizzare in ogni elemento di questo, che di fatto posso usare come un vettore, grazie alla dualità puntatori-vettori del C++, in dati di I assegno appunto il valore della I, quindi da 0 a 9. E per tenere sotto controllo quello che sta succedendo, ho previsto questo metodo stampa dati che con un ciclo banalmente invia allo stream di output tutti gli elementi di questo vettore. Occhio, controllate qua di avere anche voi tutti gli include necessari, in particolare penso di aver dovuto aggiungere questo per poter accedere al Cout. E' anche però necessario, non avendo aggiunto il namespace std, anteporre al Cout appunto la specifica std 2.2. E' la stessa cosa anche per far riconoscere al compilatore che cosa sia questo endl, perché è definito nel namespace std pure lui. Come ho più volte sottolineato nella parte della playlist sulla RAM dinamica, quando si va a creare dinamicamente un blocco di oggetti o di byte, prima o poi correttamente dobbiamo anche distruggerlo, altrimenti rimarrebbero dei buchi di memoria nella RAM. Quale posto è migliore per distruggere questo blocco di dati, se non il distruttore della classe dado stessa? Dopo aver decrementato il livello di classe e il numero dei dadi, distruggo anche l'area allocata dal costruttore. Simmetria perfetta, è elegante, ci piace. Per sicurezza vi mostro ancora tutto il codice sorgente, perché ho timore di aver fatto qualche modifica e di essermi magari dimenticato di commentarla. Questa è la classe dado per il suo cpp, il dado.h vabbè qui sotto c'è solo l'endif che si intravede, no non si vede però sapete che c'è l'endif e basta. Poi andiamo alla classe del gioco, perché anche qui dobbiamo portare poche ma significative modifiche. E' qui che si concretizza il concetto di copy constructor. Ho aggiunto un secondo costruttore al gioco. A differenza del primo dove non si passavano i dadi, qua invece lo faccio. Eccoli qui, ho aggiunto questi due parametri, un primo dado e un secondo dado. L'inizializzazione quindi non avviene su un valore casuale del numero delle facce, ma do proprio alla lista di inizializzazione ad1 il primo dado e ad2 il secondo dado. Ma mentre nel caso precedente è un po' più facile capire quello che succede, vuol dire che sto chiamando il costruttore del dado passando 6 che è il numero delle facce, che cosa vuol dire qua? Chiamare e creare un dado in questo modo. Infatti noi non abbiamo mai definito, aggiunto un costruttore del dado, della classe dado, che riceve come parametro un dado stesso. Eppure, ve l'assicuro, funziona. E' che siccome il caso in cui un oggetto deve essere creato come copia di un altro, dello stesso tipo, è abbastanza comune, un po' come avviene con i costruttori default, che se non ne definiamo uno noi, ci pensa il compilatore, e così anche per i distruttori, anche per il costruttore copia, se noi non ne forniamo una versione specializzata, e qualche volta c'è necessità, come dimostrerò tra un po', ci pensa il compilatore. Ok, ma secondo voi cosa potrà fare il compilatore quando riceve un oggetto con cui creare un altro? Eh, fa una copia membro a membro. Cioè dice, ah, ok, qua mi stai chiedendo di creare un dado di uno e di usare come valore per la costruzione il contenuto di questo dado che io ricevo. Va bene, questo primo dado, come tutti i dadi, avrà un suo numero facce, un valore, un num-dadi e questo puntatore a dati. Bene, io faccio una copia membro a membro. Questo fa il costruttore copy constructor. Cerco di spiegarmi meglio con questo schema. Siamo nel main, qui, dove abbiamo i due dadi, di uno e di due, che ho etichettato come esterni. Ad un certo punto chiamiamo il costruttore del gioco, indicando come parametri proprio di uno e di due. E' qui che viene invocato una prima volta il costruttore copia, copy constructor, del dado. Perché è necessario preparare i parametri del costruttore del gioco, i parametri quelli attuali. Quindi si aspetta di ricevere, appunto, per copia, un duplicato delle variabili esterne nel main. Quindi il primo dado, che diventa un doppione di D1 e il secondo dado, che diventa un doppione di D2. Com'è che lo diventa? Beh, il copy constructor, quello automatico, prende la prima variabile dello stato interno di D1 e la copia, dopo aver allocato lo spazio necessario, nella prima variabile che ha lo stesso nome del oggetto primo dado. La stessa cosa fa con tutte le altre variabili. E la stessa cosa si fa, ovviamente, per il secondo dado. Tutto questo giro, quindi, per capire perché serve un copy constructor, anche se di default, automatico, per passare i dati da qui, dal main, questo D1 e D2, a qui, nei parametri attuali del costruttore del gioco. Ma adesso c'è un secondo passaggio, perché i parametri attuali vengono utilizzati nella lista di inizializzazione. In effetti, qua stiamo ancora chiamando delle funzioni che hanno bisogno di creare a essi stessi una copia del parametro che ricevono, perché in questo caso si tratta di un oggetto e non semplicemente di un numero come per i parametri precedenti. Di nuovo, abbiamo il copy constructor che deve provvedere, quindi, alla clonazione dal parametro che ha ricevuto il costruttore all'oggetto dado D1, che casualmente si chiama ancora D1 come quello esterno, che è però quello del gioco, D1, e la stessa cosa per il secondo dato. Il meccanismo non è banale da capire, ma apparentemente sembrerebbe che ci si possa, da questo punto in poi, fregare di quello che accadde dietro le quinte. Se c'è il compilatore che crea per noi in automatico questo benedetto copy constructor, perché mai invece vi sto raccontando che dobbiamo preoccuparcene? I problemi nascono tutti dalla gestione, da cosa si debba intendere per copia di questo puntatore, o meglio, dell'area da esso puntato. Provate un po' a ragionarci. Copio il puntatore? Ma sto copiando anche l'area puntata? Sì? No? Quale conseguenza? Vi lascio questo dubbio che vi toglierò però la prossima volta, perché vi sto veramente chiedendo troppo. È da ormai 15 minuti che vi sto tenendo l'attenzione a un livello mostruoso, me ne rendo conto. Vi ho fatto un po' di male. Alla prossima. vi ho fatto un po' di male. vi ho fatto un po' di male. Vi ho fatto un po' di male.